Ciao ragazzi, ho avuto un problema e voi direte, che tipo di problema, visto che te ne capita in tutti i colori? Praticamente, ero libera tranquilla a registrarmi il quattordicesimo episodio di Pessimo Testimone che dovevo mettere domani, ma purtroppo, con quello che è successo, non posso, ora vi spiegherò il perché. Praticamente, stavo registrando sto episodio, quando ad un certo punto il mio computer si spegne ad un tratto così. Senza che io ho cliccato niente, praticamente mi si è affacciata una schermata blu che ho scritto sopra. E devo risolvere un problema, mi si è spento. Lo dico io, propriamente stavo registrando, non potevi farlo in un altro momento. No, quindi ho perso tutto il lavoro, quello che avevo registrato, e niente, perché stavo registrando pure il quindicesimo episodio. Quindi, poi, proprio all'inizio, il quindicesimo episodio stavo registrando. Niente, e quindi, cosa ho fatto? Sono andata di nuovo sull'app, ho detto, vabbè, che problema c'è? Rifacciamo l'episodio, solo che il problema è che sull'app non puoi rigiocare gli stessi episodi. Ti fa andare solo avanti con gli episodi. Quindi, cosa ho detto? Come cacchio faccio a portare a questo episodio? E niente. Mi sono messa lì a cercare, ho visto che potevo ricominciare il libro. Alla fine l'ho ricominciato, solo che non posso stare tutti i giorni lì a cliccare, insomma. Cioè, non è che posso stare tutti i giorni lì a cliccare per mandare avanti gli episodi, anche perché poi devi spittare i biglietti che dopo ogni ora, mi ricordo ogni quanto. Madonna, mio macello, insomma. Quindi, ragazzi, ho ricominciato il libro, adesso sono arrivata tipo al dodicesimo episodio, quindi manca poco. Cioè, da ieri e da oggi che continuo a cliccare un casino, perché ovviamente non è che posso stare tutto il giorno, perché ho anche le mie cose da fare. E niente. Quindi, mi dispiace, ma per domani e forse anche per giovedì non posso portarvi per Simotessimone per questo problema. Ma scusate, ragazzi, ma purtroppo non è colpa mia, ma il computer che è morto in quel momento, che poi non poteva morire in un altro momento, giustamente, no. E niente, vabbè. E quindi, visto che avevo editato un po' di tempo fa The Sims 4, che avevo fatto alcuni video, e vi porterò quello, purtroppo. Mi dispiace, ragazzi, ma non posso farci niente. Cioè, mi dispiace tanto. Piuttosto che lasciare il canale vuoto, così non portarvi nulla, vi porto un altro contenuto, e spero che vi piaccia lo stesso. Anche se so che vorreste di più vedere Pessimo Testimone, ma purtroppo non ci posso fare niente, è successa sta cosa. Comunque, se riesco, magari giovedì ve lo posso portare. Se riesco, eh. Non è detto. Vediamo. Se giovedì riesco, ve lo porto comunque. E niente, ragazzi. Scusate ancora, ma purtroppo sono cose che capitano.